Pineder non deve morire, con questo intento i suoi lavoratori sono scesi in piazza in uno sciopero presidio e raccolgono firme da parte dei fiorentini, dei passanti. Ancora una volta un grave dubbio pesa come un enorme punto interrogativo sulle teste. Un'azienda che rappresenta l'eccellenza dell'artigianato nell'arte incisoria, nella stampa rilievo, simbolo di storia e di prestigio nel mondo, ha aperto il via la cassa integrazione a zero ore per i 13 dipendenti, gli stessi che preoccupati si chiedono quale siano le vere intenzioni dell'azienda. E' questo il problema, noi non ne abbiamo la minima idea, nel senso che ha aperto una cassa integrazione per tutte e 13 i lavoratori a zero ore, quindi la produzione si ferma. E comunque siamo estremamente preoccupati per questa situazione economica che noi abbiamo capito essere estremamente difficile, abbiamo capito, abbiamo cercato di vederla questa situazione e con questa situazione economica non capiamo come l'azienda possa andare avanti, per cui siamo estremamente preoccupati e non capiamo quali sono le intenzioni dell'azienda. Ed è per questo che ci sarà il 3 di novembre un incontro in provincia al tavolo di crisi insieme anche al sindaco di Bagnarripoli e all'assessore Gianassi di Firenze. Viene una domanda spontanissima, cioè chiudere l'azienda e tenere aperto il negozio, qual è il senso? Non saprei, noi abbiamo veramente le mani legate, cioè per noi è difficile anche avere un incontro, un confronto con l'azienda, cioè da tanti mesi abbiamo cercato comunque di essere vicini, di cercare di capire anche appieno la nostra situazione. Il senso della differenza così ampia tra il non fare niente e lasciare morire un marchio storico, secondo noi, e questo è il rischio maggiore in questo momento. Noi siamo qua oggi a cercare la solidarietà dei fiorentini anche perché comunque Pineda è stato, ed è tuttora, un marchio storico, storico e importante per la città. Quindi la nostra speranza è che questo messaggio passi a tutti i livelli, a chi può essere vicino a noi il più possibile. È già aperto da un anno il tavolo di crisi, diciamo che abbiamo già fatto tre incontri, ma questa nuova situazione della cassa integrazione ci ha allarmato, per cui abbiamo deciso di richiedere un'altra volta l'incontro al tavolo di crisi e subito devo dire che l'amministrazione ce l'ha dato immediatamente perché questo è un marchio talmente storico che preoccupa il fatto che non abbiamo nessuna idea di che cosa voglia fare un'azienda che non ha un piano industriale.